Dunque, anche qui facciamo un ripasso di quello che abbiamo detto. Allora, in figura abbiamo un cromosoma materno e un cromosoma paterno. Tutti gli individui possiedono una coppia di alleli per ogni carattere ereditario. Quindi, quando praticamente la coppia è identica, l'individuo è detto omozigote per quel determinato carattere. Se la coppia è diversa, vedete qui è blu e qua è rossa, allora sarà eterozigote per quel determinato carattere. Quindi, la cosa importante che dobbiamo ricordare è questa. Questo è un cromosoma che viene dalla madre, questo è un cromosoma che viene dal padre. I geni per un determinato carattere, come vedete, sono sempre in coppia. Non è detto che la coppia sia identica. Vedete che in questo caso è uguale, in questo caso è diversa. Anche qua, quindi cromosoma materno, cromosoma paterno. Con la lettera maiuscola ci sono i geni dominanti, l'allele dominante e la lettera minuscola e l'allele recessiva. Allora, il primo caso, A grande, A piccolo. Il soggetto che cos'è? Etero zigote per questo gene, per questo particolare gene, che poi si esprimerà con il determinato carattere. Mentre B e B, vedete, sono due lettere maiuscole, il soggetto in questo caso si dice homo zigote per il gene B, che esprimerà poi un determinato carattere. Anche in questo caso, due cromosomi, uno paterno e uno materno. Con le lettere maiuscole abbiamo il carattere, il gene dominante, l'allele dominante, e con le lettere miuscola quella recessiva. E allora, nel caso dell'allele o del gene P, vedete, sono tutte e due maiuscole, quindi questo individuo sarà homo zigote per questo allele dominante. I loci sarebbero i luoghi fisici dove risiedono i geni. A piccolo ed A piccolo sono geni recessivi, quindi però l'individuo è homo zigote perché significa che hanno entrambi l'allele recessivo per quel determinato carattere. In quest'altro caso invece abbiamo un B maiuscolo e un B minuscolo. In questo caso l'individuo non sarà homo zigote ma sarà etero zigote perché il genotipo sarà B grande e B piccolo. Avrà un dominante e un recessivo. Bisogna ricordare che gli alleli di due geni differenti segregano indipendentemente solo se questi geni sono su cromosomi differenti. Quindi sostanzialmente questo rosso segrega indipendentemente da questo verde e da questo nero soltanto se stanno su cromosomi differenti. Ma vedete se noi utilizziamo i cromosomi presenti nella parte bassa della diapositiva, quello rosso e quello blu, questi cromosomi partiranno per essere poi trasmessi allo stesso gamete per la stessa gamete quando si fa la meiusi. E questi qua rimangono sullo stesso cromosomo e quindi è evidente che questi devono rimanere insieme, non possono dividersi indipendentemente l'uno dall'altro perché stanno sullo stesso cromosomo. Allora i geni che tendono a rimanere insieme perché sono sulla stessa coppia di cromosomi omologhi si dicono appartenere allo stesso gruppo di associazione. Quindi come vedete questi sono due cromosomi diversi, il rosso può segregare dal nero indipendentemente l'uno dall'altro perché stanno su cromosomi diversi, ma il rosso non può segregare dal blu indipendentemente perché stanno sullo stesso cromosomo. Allora i geni che tendono a rimanere insieme per la stessa coppia di cromosomo.